Le investigazioni che abbiamo attuato ci hanno consentito di individuare una banda di ragazzi dai 20 ai 25 anni, tutti italiani, che durante la notte effettuavano questi furti soprattutto per poter poi acquistare sostanza stupefacente per il loro consumo. Rimasti senza lavoro non avevano più i soldi per poter acquistare la droga di cui facevano frequentemente uso. Così quattro ragazzi, uno residente a Piano di Momio, un altro a Lido di Camaiore e altri due nella Piana Lucchese, per procurarsi la cocaina si sono trasformati in dei ladri seriali, mettendo a segno nei primi 15 giorni di novembre scorso una serie di furti notturni ai danni di varie attività commerciali del comune di Pietrasanta, tra cui due centri estetici, un bar, una macelleria nelle frazioni del Crociale dell'Africa e un centro commerciale lungo l'Aurelia. I giovani consegnavano oggetti e soldi rubati dalle attività agli spacciatori in cambio di dosi di cocaina. Grazie ai filmati delle telecamere di videosorveglianza degli esercizi derubati e a una meticolosa attività di indagine, gli agenti del commissariato di polizia di Forte dei Marmi sono riusciti a individuare il quartetto. Tutti i componenti della banda appartenenti a famiglie di Ceto Medio Basso sono stati denunciati per furto continuato in concorso. I due giovani residenti in Versilia risultano incensurati, mentre i due della Piana Lucchese due anni fa furono arrestati, sempre dalla polizia, per un furto commesso in una macelleria di ripa nel comune di Seravezza. Gli arrestati in passato avevano studiato in istituti superiori di Pietrasanta, un territorio che da studenti li ha visti trasformarsi in ladri. Grazie. Grazie.